Cari cittadini, situazione allarmante, situazione complicata, situazione difficile. Però dobbiamo fare una cosa, quando andiamo in autostrada andiamo a 130, perché c'è una legge che ce l'impone e tutti andiamo a 130. La stessa cosa, adesso non dobbiamo discutere noi i decreti ministeriali o quello che ci dicono gli uffici sanitari, dobbiamo semplicemente eseguire quello che ci viene detto, perché è una cosa complicata. Allora, stiamo tutti attenti, cerchiamo di non fare assembramenti, cerchiamo di comportarci come cittadini responsabili nei confronti anche delle persone più anziane, perché queste sono le persone. Oggi vi racconto una, oggi è il compleanno di mia madre, le farò gli auguri soltanto al telefono. In conclusione, attenetevi a quello che è il decreto ministeriale, attenetevi a quello che dicono gli organi sanitari e a proposito ringrazio tutti quelli che lavorano nella sanità per lo sforzo che hanno fatto in questo periodo, veramente grazie di cuore dal sindaco e da tutta la città.